Ciao, io sono Gio, io Previo e insieme proveremo questa miniserie su FIFA 16 Ultimate Team C'è un quattro Eh ragazzi, siamo avanti Poi magari vi lasciamo i nostri nomi Eh invece no No, non c'è un pregato No, di un cazzo No, seriamente magari poi li mettiamo O magari no Come funziona questa cosa? Road to Ignoranza Eccezionale! Fra i tanti appunto spicca questo omino qui Omino, sì Di elevata Mister Nutella Scultura Lui sarà diciamo la nostra punta di diamante In realtà è C o C E sarà chiaramente insostituibile Tutto il resto Ovvio Ovvio, non c'è specificato Tutto il resto della squadra sono bronzi e o argenti Perché con Daniga Ci sta simpatico con Daniga Le regole sono piuttosto semplici Brevio perché sono scarse quindi brevio Giocherà le partite Due partite episodio, due Ok Bene Può non sapersi Ad ogni partita vinta Ad ogni gol di Cassano Ad ogni rage quit E? Tripletta Tripletta E tre ogni tripletta Quindi c'è un bonus extra Se ne segna tre Gol, gol, gol E tripletta È vero Quindi quattro Wow Al verificarsi di ognuno di questi eventi Ma come parli in modo No Se devi parlare alla fanta Antonio Cazzo Aggiungeremo O meglio sostituiremo Un giocatore della nostra rosa di bronzi E o argenti Con Uno dei giocatori che ci saranno suggeriti Sempre rimanendo nell'obiettivo di Costruire una squadra ignorante Quindi se ci chiedete Ronaldo Col cazzo perché No Forse troviamo quello dell'Empoli Quello dell'Empoli Quello dell'Empoli Ronaldo Sarebbe esattamente È questo l'obiettivo È un ottimo suggerimento Solo gli italiani L'ignoranza va dappertutto In tutto il mondo ragazzi Sì Perfetto Niente direi che Possiamo iniziare Angolo iniesta Quitta Me lo sento quitta Ha paura di Cassano ragazzi Ha paura Era incredibile Proprio lei con E va Questo qua è un bastardo Che perde palla Non è possibile Go Perfetto di Aruna Con me ragazzi È bello che Inizio Perché io sono scarso E gioco a breve E' un bastardo Si vede Che se si gioca a su Ragazzi Avete visto che La partita è finita qua Game over Al 52esimo E noi non abbiamo quittato Quindi chiaramente Quindi chiaramente Stavamo vincendo Stavamo vincendo Abbiamo vinto 3-0 noi Siamo i vincitori morali Ragazzi si gioca Ragazzi si gioca Si vabbè non è possibile Pallo Si accassano da qua Fanta Antonio Merda Goal Dai come ha fatto Fare gol Manai 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 Monachello Monachello Rosso Via Cazzo me ne frega No è per Cassano Ok Ho sbagliato Cassano Che è santo No dai non è possibile Che è santo Ti fado tirare la poligare Guardaccio Dai Cassano 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 E' un altro gol Ah è il primo Ma è l'inizio Di una grandissima serie Monachello Oh avevo Pensiamo nel video Che c'era lì la barretta Che si era alzata Ma non aveva tirato In basso a sinistra Questo è la giocopericologia Mamma mia Ragazzi vi assicuro Sembrava Sembrava a me Quando gioca a calcio Soprattutto quando non calcio Quando non calcio Si l'abbiamo visto Oh stai intendo No dai davvero Questo lo metti No no Angolo Come Vabbè ragazzi L'episodio No ragazzi L'unico che ci segue Proprio te JC L'episodio finisce qui Speriamo vi sia piaciuto Ti sia piaciuto Jacopo Jacopo Castello JC E abbiamo 3 upgrade Decidete voi Io un upgrade Lo sprecherei per carnavalo Troi Non sprecate Spenderei Spenderei proprio Senza nessun rimorso Alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.